Ehi tu, dico proprio a te! Lo sai quando puoi usare ogni volta l'igienizzante secco istantaneo? Ogni volta che devi pulire casa, per necessità o professioni? Perché pensi che virus e batteri si siano intrufolati di soppiatto? Ogni volta che sei in auto e devi igienizzare il seggiolino del tuo bebè? Ogni volta che lasci un cliente a destinazione o un potenziale acquirente finisce di ispezionare la vettura in concessionaria? Ogni volta che sei in ufficio e una stanza non ti convinci perché è meglio sempre essere prudenti per non parlare della palestra con tutte le persone che circolano e che toccano gli attrezzi una spruzzatina qua e là e siamo più sicuri Magico! Funziona in tutte le direzioni a 360 gradi ed è senza risciacquo quindi usalo ogni volta che devi usare il PC aprire la porta, prendere le chiavi della macchina chiamare l'ascensore o selezionare il caffè purificare la mascherina decontaminare i pacchi consegnati dal corriere igienizzare il posto che hanno occupato i tuoi clienti al ristorante o igienizzare i vestiti che hanno provato e anche tutto quello che hanno toccato il negozio tanto non bagna e non unge E se dovessi igienizzare un intero ambiente? Facile! Grazie alla doppia erogazione appoggia ogni volta sul pavimento premi l'erogatore fino in fondo e il gioco è fatto! Usa ogni volta per igienizzare la camera d'albergo la sala del ristorante rendere più sicuro il pullman o anche lo scuolabus insomma, ogni volta rende salubri anche gli ambienti ed è ideale per tutte le superfici quindi lo puoi usare ogni volta che vuoi Easy! Usa ogni volta che hai un dubbio in ufficio, auto, casa, taxi, palestre negozio, ristorante, supermercato, concessionario e una volta che devi rispettare il tuo protocollo di sanificazione Usa ogni volta per seguire le linee guida del Ministero della Salute in conformità al DGPRE 5443 riguardante il contenimento Covid-19 di internazion Grazie a tutti